video risposta per Valentina Molli buongiorno cosa comportano i cani con l'esmania anche alta ma asintomatici grazie allora Valentina ci hai dato un ottimo spunto per parlare di quelli che sono gli stati a quanto capito tu hai un cane posso immaginare con titolazioni elevate ma che apparentemente sono asintomatici trattarli non trattarli allora se il paziente sta sviluppando un titolo anticorpale alto che può essere anche non una 300 ma uno a 5.000 uno a 10.000 comunque anche se asintomatico sta rispondendo con quella parte del sistema immunitario che noi non vogliamo facciamo un passo indietro quando c'è l'infezione dalle ismania cioè un sistema immunitario che raggruppiamo nel sistema th1 in grado di difendere dall'infezione e non produce anticorpi e abbiamo un sistema th2 che invece è in grado di difendere dall'infezione ma producendo anticorpi e nel caso della lesmania porta alla sintomatologia quindi se il paziente ha una lesmania alta intesa come titolo alto anche se asintomatico non lo sarà per lungo periodo prima o poi svilupperà sintomi anche gravi se non l'hai trattato perché se l'hai trattato il titolo anticorpale non ti dice se il paziente è già guarito ma ha ancora memoria anticorpale quindi eh cosa intendiamo facciamo conto invece che intendi uno squilibrio immunitario tale che hai il picco delle gamma allora in quel caso lì il cane è asintomatico per la famiglia cioè per te ma il cane già presenta sintomatologia di tipo infiammatorio che se abbandonata ti darà tutti i problemi quello più grave poi dell'insufficienza renale o della compromissione oculare quindi quando il sistema immunitario produce anticorpi o che hai il titolo alto o che hai l'elettroforesi alta è un animale che va indagato per valutare lo stadio ed immunoregolarlo cosa vuol dire secondo stadio infetto non malato cioè solo il titolo senza squilibri o è un'infezione recente e quindi prima o poi può scompensare oppure un'infezione controllata in quel caso lì lo deve aiutare perché se il sistema non ce la fa va poi in forma clinica se invece è stato curato e ha il titolo alto lì va fatta vanno fatte se dal punto di vista seriale le PCR mitollari per capire se è veramente guarito oppure ha una parassitosi così bassa non rilevabile ma in tutti i casi se non lo immunoregoli avrai problemi nel lungo termine. ciao a tutti Grazie.